Il programma del Fondo Europeo Per lo sviluppo regionale la regione ha approvato una serie di requisiti di ammissibilità da rispettare per chi vuole cogliere questa opportunità. Ieri abbiamo approvato in giunta due delibere importanti. La prima delibere consente l'accesso a qualcosa come 150.000 professionisti della Toscana ai fondi europei, cioè i fondi per la formazione e i fondi per lo sviluppo, l'FSE e il FERS. Siamo la prima regione a farlo. Noi ci siamo anche battuti su sollecitazione delle categorie, degli ordini perché questo potesse avvenire. Fino a poco tempo fa non c'era questa possibilità. Ci siamo mossi in Europa e anche a livello nazionale. Sarà un modo per consentire la crescita di un settore che rappresenta qualcosa come il 20% del nostro PIL e della nostra ricchezza. 17.200.000 euro saranno stanziati a favore di specifici interventi di sviluppo, per sostenere aree di crisi come quella di Massacarrara, ma anche progetti precisi come il sostegno alla creazione di imprese sul percorso della Via Francigena. Sono fondamentalmente interessate la provincia di Massacarrara perché 8 milioni serviranno a farci fare gli 8 decimi della strada che dobbiamo fare per arrivare a 10 milioni nell'accordo di programma che abbiamo con il Ministero dello Sviluppo Economico. Già che 10 li mettiamo noi e poi chiederemo di metterne almeno in misura analoga al MISE. 2 milioni, questa è una novità, vanno sulla Via Francigena per la creazione di imprese, quindi riguarderanno anche imprese turistiche e commerciali. L'idea che ci muove è che questo asse di sviluppo che abbiamo costruito, recuperando la Via Francigena, che fra l'altro sta andando bene, perché sapete che ogni anno quasi tende a raddoppiare la presenza, siamo passati da 20.000 a 100.000 e anche oltre, possa diventare un asse di sviluppo, non soltanto un'icona della Toscana e dell'Europa, ma qualcosa di più, promuovendo un'imprenditoria locale che senz'altro potrà uscire fuori. 2 milioni sono per il settore meccanico in provincia di Pisa e 5 poi saranno destinati con fondi rotativi che avranno un loro moltiplicatore a tutto il resto della Toscana. Intanto è già partita l'azione a sostegno delle nuove aziende del manufatturiero, del turismo e del commercio e dentro l'estate partiranno i bandi da 11,4 milioni di euro destinati ai prestiti al microcredito per le imprese già attive. Il microcredito sta funzionando, ci sono istanze corpose, certo che le risorse sono ampie e siccome ci sono altre misure che chiedono, che tirano, come si dice, e che attendono l'apertura di misure specifiche, noi allarghiamo le misure e come vedete non solo nel campo delle azioni possibili, anche dei soggetti che possono beneficiarne. L'abbiamo iniziato allargando al mondo del turismo e del commercio, oggi, ieri, anzi la delibera che allarga il mondo dei professionisti, quindi una visione a tutto tondo del sistema economico della Toscana al quale tutti appartengono, non solo il mondo della grande o della piccola e media impresa.